Vai Sì, Sì, Savini, Sì Bravo, Savini Grande black, grande vantaggio Ottima posizione a muro, Savini Balla Balla Uh Un passo in più e niente salto Primo set posto, cioè vince la coppia che raggiunge prima i tre set Difendila Buttati in terra Solleva il braccio e usa il pulso Ok Non ti muovere verso il centro perché da indicazioni dove stai andando a difendere Devi rimanere fermo se vuoi difendere E poi inseguire la palla Bravissimo Bravissimo No, Mauro No, Mauro No 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 Purtroppo questo dovrebbe fare il fatto che sei monocolmo Tu hai un'unica direzione d'attacco E Moreschi copre solo quello Non fa niente Non fa niente, non fa niente Non fa niente, non fa niente Cioè lui sta a termo sulla sua diagonale E c'è poco da ridere purtroppo Cambio 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 Ottimo tempo di salto, Camini, bravissimo lì salì mi stacchi così che morisca e possa fare correttamente la guada lo colpiscono quando lo devono colpire infatti lo prendono anche come comparsa delle sparatorie dei telephilos perché lo colpiscono sempre ma anche quei che non ci vedono no in quanto ammira però scarso scarso doppia chiaramente vantaggio passare passare attra troppi errori in battuta una battuta che non porta niente non c'è niente sei un sacco di battaglia tirati contro rete grazie a tutti cinquattro devo riuscire a fare il gesto d'attacco devo continuare a darci la spavata io buonino non c'è niente non è così che si fa lo shot line arriva un petro Savini chissà cosa stava guardando stava pensando allo champagne di stasera alle nigeriane ho fatto neanche un passo non l'ha fatto niente uno l'ha fatto qui furono lì che si muove e poi non vuole va bene va bene ho fatto un pilastro di cemento la rincorsa peggio che stai qui ci metto 40 battute ragazzi 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 però sono tre punti sbagliate di media tre battute non potete vincere mai è impossibile grazie a tutti 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 ha aperto le gambe e l'ha fissata con sgomento cioè il suo l'ha fatto non è che puoi chiedere di più ora chi pensi che sia quello un foro della Coplex non lui utilizza tutte le parti del braccio tu usi soltanto la spalla non l'abbiamo non l'abbiamo no il che fa punto batteva il cavi il che fa punto batteva il cavi è vero ma questo è un cazzo non è frega un cazzo quindi avete perso vuoi fare il gesto attacco va il cavi questo è quanto è come battito sbagliato bravo bravo porca puttana sembravi incerti sembravi match point match point per Savini Savini e Olympic Man grazie a tutti grazie a tutti 0-1 0-2 su continua a saltare al centro del campo ma sei un vantaggio perché ti sta attaccando secondo me se non sa attaccare 0-3 0-4 0-5 complimenti 0-5 0-5